ecco è terminato il terzo tempo quindi tutta la gara della categoria esordiente under 13 campionato regionale f3 ecco adesso sta piovicicando buona bravi 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 ok ciao 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 salutiamo il pubblico il terzo tempo abbiamo fatto sicuramente dobbiamo fare meglio 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 ancora ancora tanto queste partite durano tre tempi e bisogna giocare bene per questo magico gruppo